Ciao Sergio, il risultato lo sappiamo. Che cosa ci portiamo di positivo però da una partita come quella di oggi? Beh, tante occasioni, abbiamo creato tantissimo, abbiamo giocato quasi alla pari con una grandissima squadra, quindi penso che se avessi avuto un pizzico di fortuna più, un pizzico di bravura più, ci avessi avuto più. Ascolta, il gol mancato oggi, diciamo che è il prezzo da pagare per il bellissimo gol che hai fatto all'andata. No, vabbè, purtroppo sono cose di caso, a volte la colpisci male e fai gol, come è successo a loro, hanno tirato mezzo tiro, ci hanno fatto gol, e a volte la colpisci male e va fuori, come è successo a loro. E ora si affronterà domenica il Bologna, con che stato d'animo? Positivo, perché comunque abbiamo 36 punti, questa sì, se fossimo riusciti a fare punti come loro sarebbe stato molto bello, però non era questa partita che aveva una pulizia assolutamente, adesso abbiamo una che è un'altra pari, quindi cercheremo, ci vedremo, ci vedremo, ci vedremo, ci vedremo, ci vedremo. Grazie Sergio. A te. Grazie.